Questo programma è offerto da Tecnocampus Giovedì 9 maggio, buongiorno da Teleprima Benvenuti anche in questa mattina alla quotidiana Rassegna Stampa Come ogni giorno offerta da Tecnocampus E dopo il caso Siri, dopo che ieri c'è stato il Consiglio dei Ministri Vediamo che ci sono le spaccature sempre più forti all'interno del nostro governo Ma ancora una volta si va avanti Ma cominciamo subito a vedere che cosa accade Lo facciamo con l'attestata Corriere della Sera Il quotidiano di Via Solferino E vediamo che proprio in apertura di pagina ci troviamo Siri Via La Lega però non rompe Conte infatti firma il decreto di revoca del sottosegretario Di Maio Controraggi, errore andare dai Rom Inchiesta sulla Lombardia per i PM c'era un suggeritore delle nomine Insomma veramente un escursus su queste vicende E soprattutto un tutti contro tutto Sembra essere questo il leitmotiv della giornata E infatti Conte ieri ha licenziato il sottosegretario Siri Ma la Lega ha deciso, niente rottura L'inchiesta in Lombardia intanto continua E i PM dicono che c'è stato un suggeritore per le nomine E intanto ci spostiamo sugli esteri Noi Parigi USA, la guerra da evitare Stiamo parlando della Libia nell'editoriale di Venturini Le minizie che difendono Tripoli hanno sin qui ridicolizzato i proclami guerreschi Del generale cirenaico Khalid Haftar E dalla Turchia si dice stanno arrivando nella capitale libica Nuove forniture di armi Insomma non siamo lontani assolutamente dalla guerra Purtroppo sempre più vicina e sempre più armata E ancora vediamo nella parte centrale della pagina Dopo le notizie sulla politica E comunque su quella che è la probabile rottura in termini in Libia Vediamo che c'è una bella notizia del Regno Unito Il piccolo, finalmente il piccolo Ovviamente il piccolo baby Un nuovo entrato nella famiglia reale Il piccolo ha trovato un nome e si chiama Arci E infatti è questa la prima uscita per il Royal Baby in braccio a papà Harry Eccolo il piccolo Arci Harrison Il baby Sussex Ieri si è visto per la prima volta in braccio a papà Harry Che sembra così intenzionato a marcare la sua impronta E la volontà di essere un padre a tempo pieno Ben diverso dalla tradizione reale di genitori distanti Di cui lui stesso è stato in parte vittima Senza ovviamente nulla togliere a mamma Meghan Infatti vediamo nelle immagini Proprio il piccolino insieme a mamma e papà E poi le altre immagini del fratello E ovviamente di quando era bambino lui E ancora vediamo le altre notizie in primo piano Si torna ancora una volta a parlare del Salone del Libro di Torino Che quest'anno ha creato più polemiche che mai Infatti l'editore di Casa Pound fuori dal Salone del Libro L'indicazione di comune e regione agli organizzatori La casa editrice di Casa Pound infatti fuori dal Salone La richiesta accettata dagli organizzatori è stata avanzata da comune e regione Apre l'evento Halina Birembaum Sopravvissuta alla Shoah che a 90 anni ha vinto un'altra battaglia E ancora vediamo di fronte a Osegale la madre di Pamela al processo L'assassino di Pamela Osegale è chiuso in gabbia Il processo a Macerata che fa i conti con i suoi fantasmi E ora ha spazzato gli spacciatori da strade e panchine e chiede l'ergastolo E intanto vediamo nella parte bassa della pagina Quello che viene definito da questo articolo di piede l'amore acido Nulla però ci teniamo a precisare ha a che fare con quello che è l'amore Infatti a Sara non sta bene che lui l'abbia lasciata dopo nemmeno un mese Stiamo parlando infatti di una violenza sempre più cruenta Lo implora, lo minaccia, lo perseguita con messaggi minatori E poi non finisce qua Infatti quando arriva a tagliargli le gomme dell'auto Lui la denuncia ai carabinieri e per competenza alle Iene L'Italia gode di un efficiente sistema giudiziario televisivo E le Iene infatti indagano Il forum giudica e dei latitanti si occupa chi l'ha visto L'inviata del programma di Italia 1 si mette sulle tracce di Sara E cerca di farla ragionare, lei promette Ma poi bofonchia, non mi ha mai chiesto scusa Così martedì sera il Lopedina con l'auto Lui se ne accorge e chiama e rinforzi La madre e il fratello perché lo aspettino sotto casa a Legnano Ma non fa in tempo a scendere dalla macchina che Sara gli rovescia Un bicchiere di acido in faccia Lei finisce in carcere, lui in ospedale con un occhio a rischio Se una storia come questa fa notizia significa che è ancora poco frequente E a quanto pare rovescia lo schema tradizionale dove il maschio veste i panni del carnefice Io però temo che il virus dell'orgoglio ferito per cui uno pensa di trovare pace Solo se si vendica di chi lo ha fatto soffrire Possa colpire indistintamente uomini e donne Insomma una violenza sempre più brutta, sempre più antica Che comunque si trova ancora oggi E purtroppo la violenza ovviamente non riguarda solo le donne ma anche gli uomini Ma molto spesso quella stessa violenza viene taciuta per vergogna E ovviamente si ricorre a questa definendo un rapporto, un amore finito Ma ci tengo a precisare che di amore quando si attua un piano violento Ovviamente l'amore non c'entra assolutamente niente Toglietelo a dare la testa perché l'amore è un'altra cosa E ancora continuiamo a vedere le prime pagine quotidiane Troviamo sulla prima pagina del Fatto Quotidiano Fontana inguaiato il concorso pilotato e l'incarico all'ex socio Abuso d'ufficio ecco perché i PM di Milano l'hanno indagato Conflitto di interessi E l'amico Marsico non rieletto in regione diceva ho bisogno di soldi E così arrivò l'incarico su misura E intanto per le intercettazioni la cricca Giorgetti è un amico nostro E Sala intanto fa l'ognorli ma felice di peggio E vediamo un'immagine di Salvini proprio con Fontana E intanto è caso chiuso su Siri che non c'è più Vince Conte e Salvini si vendica sulla Tav E Di Maio segna un punto per il Movimento 5 Stelle Mentre nella pagina centrale Nella parte centrale della pagina Fascisti assediano i Rom La Raggi ci mette la faccia Eppure i 5 Stelle si spaccano Infatti Di Maio irritato con lei per una mossa Nel giorno di Siri E Morra e altri la difendono La sindaca affronta gli insulti e va a dare solidarietà alla famiglia che ha ricevuto la casa popolare a Casal Bruciato E oscura la vittoria 5 Stelle sul sottosegretario Il Papa che cosa dice? Intanto oggi venite in Vaticano da me Questo è l'invito che fa appunto alla famiglia Rom che è stata ovviamente trattata in maniera assurda E intanto ancora nella parte bassa della pagina Quel che è stato è stato Adesso superiamo il PIL E intanto la sentenza sulla Raggi Il Sindaca Niente falsi Marra al fratello Fatti spingere da De Vito E nella parte bassa della pagina Vediamo che anche qui si parla di Torino La casa editrice di Casa Pound è fuori dal salone Intanto sui siti i codici etici per i libri sono roba da nazismo E per lo sport Allo stadio con Galliani Battuto pure in Serie C La fine è impero I segni del declino Infatti il campo sportivo comunale di Viterbo Stadio del Littorio Stadio Rocchi Viterbese Contro Monza Finale di Coppa Italia di Serie C O terza serie Un Lega Pro Ingresso unico Una tribuna che dondola Una curva nord Una curva sud Un muretto a secco Due bandiere a metà campo Gente affannata Gente affamata Gente che corteggia le tartine in sala VIP E questo è diventato lo sport Ancora vediamo le altre notizie Sulle prime pagine nazionali Questa mattina andiamo a esaminare anche la verità Scandalo per le tangenti lombarde Su quelle calabresi Soltanto silenzio Due mazzette e due misure Paginate giuste Sull'inchiesta milanese Dove il governatore Fontana È indagato per abuso d'ufficio Il collega di Catanzaro Oliverio Deve rispondere di corruzione Ma sui giornali Si fatica a trovarne traccia E ancora nella parte centrale Della pagina Non paga Pignorato lo yacht Di De Benedetti Junior E ancora Continuiamo a scendere Su questa prima pagina La Cassazione Stoppa l'utero in affitto Sentenza cruciale I bambini presi all'estero Con maternità surrogata Non possono chiamarsi figli E intanto una brutta vicenda Che ha coinvolto una ragazzina Di soli 14-15 anni A Bolzano In pieno giorno Infatti questa ragazzina È stata stuprata E si cercano due africani Ritornava da scuola In una strada Normalmente frequentata E questo è accaduto E ancora Siamo proprio In alto mare Ancora vediamo La battaglia sulla droga Di Salvini Che giura Chiuderemo i negozi Di Cannabis Light E nella parte più bassa Della pagina Via dal Pakistan Asia Bibi È finalmente libera Era stata assolta Dopo anni di carcere Per blasfemia E anche qui Vediamo proprio La storia Di questa Stalker Donna Sfregia L'ex fidanzato Che l'aveva respinta Ancora continuiamo A vedere i fatti In primo piano Ci spostiamo Sul quotidiano libero La tangentopoli Dei poveretti Quanti ladri di polli Dice appunto Libero Movimento 5 Stelle Spera di evitare La batosta elettorale All'europea Cavalcando inchieste Da due soldi Ma per una volta Hanno ragione I PM Per i quali La scena è di Bassissima Valenza sociale Fontana ha detto No alla corruzione Lo indagano Per abuso D'ufficio E intanto Il premier Da di porto Conte Entra a gamba Tesa E spulso Infatti Siri Nell'editoriale Di Feltri E ancora Nella parte centrale Della pagina Si parla ancora Una volta Di antifascisti Ricchi Questa volta Dicono Grazie al duce E Mussolini Continua a fare Uova d'oro Ma per la sinistra Il salone del libro Caccia l'editore Vicino a casa Poundo Per ospita Chi fa denaro Pubblicando testi Che rievocano Il ventennio Nessun reato Di apologia E intanto Zittiti Gli uccelli Del malaugurio L'Italia affonda Però questa volta Dice appunto Questa testata Nel benessere E ovviamente Sembra proprio Che la notizia Faccia scalpore Infatti Ieri i giornali Si presentavano In edicola Con titoli Terrificanti Ultimi in tutto L'Italia affonda Il giorno del giudizio Il centrodestra Rinasce a San Vittore Questi Solamente alcuni Dei più divertenti E ancora Non vogliono la riforma Parliamo dei magistrati Che si sono schierati Con i grillini Infine Nella parte bassa Della pagina Eccoci qua Lui la lascia Lei lo rovina Con l'acido Niente scalpore Tanto è maschio E a quanto pare Titola proprio così Chi al pene non fa pena Uomo sfregiato Dalla ex Direi che proprio Non è il caso Di raccontarla In questi termini Però molto spesso Vengono posti in evidenza Casi che riguardano Le donne Ma la violenza Rimane violenza A prescindere Dal sesso della vittima E intanto Fedeli davanti a scuola Denunciati dai prof Perseguitati Perché regalano il Vangelo E infatti Racconta proprio Questo quotidiano Distribuire la Bibbia Davanti alle scuole È pericoloso Troppo pericoloso Per i ragazzi Costituisce un rischio Che non si può correre Altro che droghe Stupefacenti vari Altro che atti di bullismo Pestaggi di genere Imprenda Raptus Violenti Video Per pedofili Insomma Un parallelismo Che ha poco Da raccontare Ma sicuramente Forse Non necessariamente Mettersi davanti Alle scuole Potrebbe essere Uno strumento Ideale Ovviamente In tutto C'è la necessità Di fare una scelta E anche in questo campo Soprattutto nel campo Della religione Sarebbe meglio Approciarsi in maniera Differente E soprattutto Lanciare un messaggio Che si chiama Esempio Ancora continuiamo a vedere Le prime pagine dei quotidiani Vediamo il giornale Ed ecco qua Secondo il giornale Siamo arrivati Al capolinea Il governo finisce qui Conte licenze a Siri Salvini incassa la sconfitta Ma è esaurita La fiducia con Di Maio E ora l'esecutivo Tira a campare Tra ricatti E veti incrociati E per il momento Io mi fermo qui Ma non vado via Vi lascio a qualche momento Di pubblicità E ritorniamo subito dopo Quindi non andate via Neanche voi La fiducia con Di Maio All'incrocio tra Caserta e il futuro È nato Tecnocampus Un centro direzionale moderno Frutto di un ambizioso progetto Di riqualificazione industriale Che ha messo la qualità del lavoro Al primo posto Tecnocampus Il nuovo centro direzionale di Caserta È collegato direttamente All'A30 Caserta Salerno E dista pochi minuti Dal centro di Caserta Tecnocampus SRL Viale Lincoln Zona industriale Ex San Goben Caserta Tecnocampus La soluzione al centro Ben tornati in studio Vi ricordo che è sempre giovedì 9 maggio Siamo sempre in diretta Con questa rassegna stampa E ancora continuiamo a vedere Le prime pagine dei quotidiani nazionali Stavamo esaminando poco fa Il giornale E su questa prima pagina Continuiamo a vedere le notizie in primo piano E vediamo proprio nella parte centrale della pagina Roma I romani sono furiosi Inseguono la raggi col forcone E il luigino ovviamente si riferisce a Luigi Di Maio La bacchetta Prima gli italiani E nella parte ancora più bassa La scelta di Megan Dietro il nome insolito Harry ci presenta Archie il bimbo Che spiazza i reali E nella parte destra della pagina Vediamo proprio le toghe scatenate Trappola dei grillini a Matteo Basta un avviso per cadere E sull'assalto giudiziario I conti che non tornano Nelle accuse a Fontana Mentre nella parte più destra della pagina Nuovi eroi a sinistra Che tristezza la resistenza A colpi però di selfie e di insulti E intanto la propaganda e la realtà Due situazioni che ovviamente si trovano in maniera propedeutica Ma sicuramente opposte l'una all'altra Contano i fatti Non i proclami dei giallo-verdi E noi ci auguriamo proprio che sia così E intanto nella parte bassa della pagina Salone vince la censura Via Altaforte Escluso l'editore Vicino a Casa Pound E ancora la sentenza Che viene definita discutibile utile in affitto Lo spiraglio lasciato aperto dalla Cassazione E ancora vediamo le altre prime pagine Ci spostiamo proprio sul tempo E andiamo a vedere Ecco qua la parte alta della pagina In apertura pallotta Carica gli ultra contro la Raggi Il presidente della Roma Si lamenta dei tempi lunghi Per costruire l'impianto E attacca Siamo stati snobbati dal comune I tifosi devono sollecitare un intervento No presidente non è accettabile Questo è il commento che viene fatto E intanto nella parte centrale Si parla di Rom Di Maio infatti Gela Virginia Prima i Romani E per le assunzioni a Montecitorio Arriva a luglio Il concorsone alla Camera Nella parte bassa della pagina Anche qui in evidenza Ftiri fuori dal governo Ma con arata Sul lobbying Il premier conterevoca l'incarico Al sottosegretario leghista Indagato che si difende Davanti ai PM E per ancora L'andrangheta E appalti in Lombardia Un incarico al socio Mette neguai Fontana E la Cassazione No alla trascrizione Eccoci qua I giudici non riconoscono I bambini con due padri E intanto E vita dura per i furbetti Del fisco La fattura elettronica Funzione E il gettito IVA Sembra essere in crescita Ed infine Nella parte bassa Della pagina La richiesta Ergastolo Per il killer di Pamela La richiesta Arriva dall'accusa Per il nigeriano che ha ucciso E fatto a pezzi La giovane donna Ancora vediamo Nelle altre prime pagine Che cosa accade Vediamo subito La Repubblica Ed ecco qua Che l'apertura è sulla Raggi che sfida i fascisti Di Maio l'abbandona Lei ha casal bruciato In difesa della legalità Lui la scarica Prima i romani Degli altri Si spacca il Movimento 5 Stelle Il Papa riceverà La famiglia Rom Che ha ottenuto L'alloggio popolare E Virginia scoprì Una forza Da sindaca Così viene raccontata Proprio in questa Prima pagina E il fascino Borghese Del capitano E sempre Nella parte bassa Della pagina Torino dopo la denuncia L'editore nero Indagato adesso Verrà bandato via Dal salone Nella parte sinistra L'editoriale Tutto dedicato Al caso Siria E il governo Delle due Italie Ovviamente A questo Fa riferimento Sempre al nostro Governo Spaccato in due E ovviamente Ripeto Sempre nello stesso modo In duplice Spaccettatura Che comunque Rappresenta Qualcosa di Innegabilmente strano E ancora Vediamo nella parte Più bassa Della pagina Juve Allegri Verso l'addio All'orizzonte C'è Conte E questa Quella che viene Definita La ferita Della Champions E anche qui La presentazione Del Royal Baby Ecco il signorino Arci Principino Ma ovviamente Senza titoli E ancora Dalle prime pagine Dei quotidiani Ci spostiamo A il mattino Il racconto A Anfield Road Il fortino Tempio del Riverpur Che il travolge Tutti E continua Il cantiere azzurro L'offerta in signe E contratto più lungo Ma attenzione Stesso stipendio E ancora un convegno I terrapiatisti Anti Einstein Sbarcano in Italia Tra questi C'è anche Grillo E vediamo Che si continua A parlare Della vicenda Che lo scorso Venerdì Ha fatto Tanto discutere Tanto clamore Proprio perché È stata colpita Questa bambina Di 4 anni Noemi Adesso arriva Alla fondo Anche del capo Della polizia Gabrielli Basta spot Dice Lavoriamo di più Il capo della polizia È ferimento Della bambina Uno schiaffo Allo Stato E cita proprio Il presidente Della Repubblica E poi arriva Il prete Anticamorra Trent'anni fa Disse Fuglite Venne Nulla Da allora È cambiato Il ferimento Di Noemi A Napoli È stato infatti Uno schiaffo Allo Stato Basta spot Si lavori di più Per la sicurezza Così Franco Gabrielli Capo della polizia E Don Franco Rapullino Ex parroco di Forcella Trent'anni dopo Il Fuglite Venne Osserva Purtroppo Nulla è cambiato Insomma Dopo i proclami Che sono stati fatti Da Salvini Nei giorni scorsi Per riproporre Un modello A Napoli Un modello caserta Dice proprio Il capo della polizia Nessun modello Serve Serve solamente Più forza E soprattutto Più polizia Ancora vediamo Le altre notizie In primo piano La ditta non paga E il racket Smobilita Ma i clan Di Napoli Non si fermano Cantiere Unesco Cacciata infatti L'impresa Addio al cantiere Del progetto Unesco Di Porta Capuana A Napoli Minacce per Due giorni Da parte dei racket Hanno indotto L'azienda di Isernia Ad abbandonare Il cantiere Gli operai Ci hanno detto Di fermare I lavori Appunto Questa è la loro Dichiarazione E ancora il caso Condannati liberi Scontro di cifre Giustizia Viminale E guarda di cifre Tra i ministeri Di Salvini E Bonafede Sui condannati Ancora in libertà E intanto Vediamo L'editoriale Di Lamalfa I dazi USA Il caso Iran E l'Italia E l'Italia Che viene definita Sonnambula Infatti la Commissione Europea Ha reso noto Martedì Le sue previsioni Sull'andamento Dell'economia Dei paesi Dell'eurozona I dati per l'Italia Sono particolarmente Cattivi Sia in termini assoluti Sia in confronto All'andamento Degli altri paesi Presi in considerazione In sintesi Dai dati Resi noti Dal commissario Moscovici Risulta che La crescita media Dell'area Dell'euro Nel 2019 Sarà dell'1% Che in alcuni paesi Tra cui la Spagna La Polonia Ma anche la Francia Avranno una crescita Ben superiore A questa cifra Mentre in coda Si trovano solo Si trovano La Germania Con una crescita Dello 0,5% E proprio l'Italia Con uno 0,1% E per il 2020 La Commissione Europea Prevede per l'eurozona Una crescita media Dell'1,5% E ancora una volta Le previsioni Sono appunto Catastrofiche E continuiamo a vedere La polemica Anche su questa testata Salone del libro Fuori l'editore Di casa Pound Faccio causa Infatti la città di Torino E la regione Piemonte Soci fondatori Hanno chiesto Agli organizzatori Del salone del libro Di rescidere il contratto Con la casa editrice Altaforte Dopo che la procura E' scritto nel registro Degni indagati L'editore L'ipotesi di reato E' apologia di fascismo Ma Polacchi replica All'ingotto Ci saremo anche Perché non abbiamo ricevuto Alcuna comunicazione ufficiale Se sarà la recessione A questo punto Faremo causa E nella parte centrale Della pagina La visita E la raggi Roma hanno diritto Alla casa E Di Maio attacca Pensi di più Ai romani E intanto Conte Revo Casiri Di Maio E Salvini Non si parlano più E tensione in CDM La Lega Crisi per ora Rinviata Il Movimento 5 Stelle Esulta E la buongiorno Precedente Pericoloso E intanto Dai cantieri Alle tasse Ora in Parlamento Resta tutto Broccato Per la guerriglia Giallo-verde Infine Nella parte bassa Della pagina Vediamo una notizia Davvero sciocca Avvenuto a Mondragone La nonna con il cane In braccio Sbranata Dai pitbull Della nipote Un raptus Un blackout Fatto totale Trasforma due pitbull Domestici In bestie sanguinarie Ma anche questo Non andremo a vedere Nei particolari dopo Continuiamo ora A vedere le prime Pagine dei quotidiani Vediamo il manifesto Questa mattina Come presente I fatti Ed ecco che si parte Da raggi Che rompe l'assedio Razzista Ai rom La sindaca Insultata Scortata Dalla polizia Casal bruciato Ma di maio Rema Contro oggi La fiera al via Salone del libro Altaforte E fuori E tanto Roma-Turino Brutte piazze Di Italia E insomma Anche questa È l'immagine Che viene tracciata In questa mattina Di un'Italia Spezzata In tutti E su tutti I fronti E vediamo adesso L'articolo di apertura Del manifesto Ed eccolo qua Che viene definito Proprio così Il coniglio Dei ministri Anziché Consiglio Dei ministri Siria fuori dal governo Indagato per corruzione Conte Gli revoca Le deleghe Dal cilindro Di Palazzo Chigi Arriva la resa Di Salvini La Lega Trema anche a Milano Il governatore Fontana Accusato per abuso D'ufficio E i 5 stelle Cantano Vittoria Ovviamente Su tutta la linea Ancora continuiamo a vedere Le prime pagine dei quotidiani Questa volta ci spostiamo Sul tema economico Con il sole 24 ore E lascia la parola Tria No A più deficit Per tagliare le tasse Coperture strutturali Insomma Questa è l'intervista Che viene fatta Proprio a Tria Pagamenti Pubblica amministrazione Più puntuale Ma il sud Ancora una volta Indietro E sul caso Si riconterevoca La nomina Salvini Ora flat tax Da 13 miliardi E TAV Mentre Per il PIR Banca Italia Cresce il rischio Di perdite E nella parte centrale Ecco qua Vediamo sull'energia Entra nel vivo La caccia a Sorgenia Mentre i mutui Gara di offerti In banca Taglio di rate Tassi E ancora una volta Spread E vediamo ancora Sempre per la parte Economica Italia Oggi Eccoci qua Ora il PD Chiede alla presidente Dell'Umbria Di ritirare le dimissioni Che le aveva imposto Mentre i dati fiscali Sono accessibili E il contribuente Può chiedere All'anagrafe Tributaria Di conoscere i contenuti Che lo riguardano E può anche segnalare Eventuali errori E chiederne la rettifica Insomma Un miglioramento Per quanto riguarda L'informazione L'informatizzazione Ancora vediamo Le altre notizie In primo piano Nelle notizie Nella parte sinistra Coppia gay Noi due papà Se manca un legame Biologico La decisione Della Cassazione E ancora La chiusura stagionale Non esonera Dalla Tari Infine Stop Alla pubblicità Cartacea Al cessi L'Europa League E rimanere In Inghilterra Mi piace La Premier L'atmosfera Che si respira Resto qui Stasera contro L'Entracht Parte da 1 a 1 In palio Baku E nella parte centrale Della pagina Strepitoso Tottenham Ribaltato L'Ajax Per 2 a 3 La finale E inglese E viene definita Proprio Royal Champions La tripletta Di Lucas Cancella Il doppio vantaggio Olandese Sabato 1 giugno Al Banda Di Madrid La sfida Contro Il Reza E ancora Nella parte Destra Della pagina Yes we Klopp Così Jürgen Ha costruito Il capolavoro Del Liverpool E nella parte Bassa Della pagina Vediamo Che Allegri Ancora un giallo Juve Eminente Il vertice A Torino Tra il Tecrico E Agnelli Si parla Di un clamoroso Divorzio Spunta Anche il Barça E per la Ferrari Spagna Formula Che viene Definita Coraggio E Fognini A Madrid Ora Sfida TM Ancora Vediamo Sempre Per la parte Sportiva Tutto sport Toro Che carica Obiettivo Europa Cresce L'entusiasmo Pienone Anche Contro Il Stassuolo Allenamenti Ad alta intensità Scintille Fra Sirigu E Rincón Cairo Nuovo Blitz Al Filadelfia La spinta Di Izzo E nella parte Centrale Juve Allegri La verità Giornata Convulsa Tra voci E smentite Su un vertice Alla continanza Per l'addio di Max A mezzanotte La svolta Il Teclico E Agnelli Non si sono ancora incontrati E tutto può succedere Conte e Inter Sempre più decini E con questa notizia Che riguarda appunto Le prime pagine quotidiane nazionali Terminiamo la prima parte Della rassegna stampa Ovviamente Ancora non è finita L'intera rassegna stampa Vi lascio a qualche momento Di pubblicità Ma ritorniamo subito dopo E andiamo ad esaminare Quelli che sono i fatti Della regione Campania Con un'attenzione Tutta particolare A Caserta E la sua provincia Non andate via Non andate via Grazie a tutti. All'incrocio tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus, un centro direzionale moderno, frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Tecnocampus, il nuovo centro direzionale di Caserta è collegato direttamente all'A30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecnocampus SRL, Viale Lincoln, zona industriale ex San Goben Caserta. Tecnocampus, la soluzione al centro. Ed eccoci di nuovo in studio, pronti per affrontare le notizie che riguardano la regione Campania. Infatti cominciamo subito a sfogliare i quotidiani online e partiamo con la Repubblica. E vediamo che c'è un forte appello fatto dal Cardinale Sepe. Cittadini, dite ciò che sapete sulla sparatoria di Piazza Nazionale. Il Vescovo infatti prega per la piccola ferita nell'agguato. Non chiedo atti di eroismo, ma esiste una collaborazione anche tutelata o anche silenziosa, perfino anonima, nella responsabilità della coscienza. E infatti il dolore c'è, si sente, in tanti si stanno riunendo in preghiera per la piccola Noemi ridotta in gravi condizioni nella furia omicida della Camorra. E quel raccoglimento è un atto di affidamento e dono molto importante ma intimo. Poi però, dice sempre il Cardinale, c'è sempre la vita sociale. A quel punto dice è necessario farsi avanti se qualcuno sa e raccontare quelli che sono i fatti. Insomma, questo è l'invito che viene fatto dal Cardinale proprio perché non rimanga impunito chi ha compiuto questo atto efferato. Ancora vediamo le notizie che arrivano da Napoli, questa volta da Scampia. Napoli in 180 giorni giù la vela verde, vediamo proprio nell'immagine. Lunedì mattina, 13 maggio, inizia infatti il cantiere per la demolizione. Un bollettino della felicità a poche ore dall'abbattimento della vela verde di Scampia che inizierà proprio lunedì 13 maggio e che si prevede sarà compiuto in 180 giorni. A siglarlo il comitato vele di Scampia che sull'edificio ormai vuoto ha srotolato un emblematico striscione con la scritta vinto la lotta di ossa. Questo momento, sostengono gli attivisti, rappresenta il raggiungimento di un obiettivo storico e propedeutico al successo finale che ospichiamo di raggiungere nel più breve tempo possibile la totale trasformazione e rigenerazione urbana dell'8M e così anche e soprattutto di Scampia. E ancora sempre fatti in primo piano, vediamo che cosa racconta ancora Repubblica e si passa a un fatto di cronaca all'ennesima violenza e infatti si parla di pitbull che aggrediscono un'anziana e adesso in gravi condizioni la donna ferita dai canni della nipote nel cortile della casa. E' stata aggredita all'improvviso dai due pitbull della nipote nel cortile di casa e ha riportato gravissime ferite e è accaduto a Mondragone in provincia di Caserta in via 11 febbraio. Vittima una donna di 85 anni è ricoverata con prognosi riservata per le profonde lesioni alla testa e a un braccio. Nella circostanza altre tre persone, un quarantenne, un 33enne e un 41enne intervenute in soccorso della donna sono dovute ricorrere a cure mediche però per lievi ferite. Insomma ancora una volta la violenza di questi animali si getta appunto sopra una persona inerme. Purtroppo la colpa, dobbiamo dire, non è degli animali, questo sempre in primo piano ma comunque molto spesso ci sono dei segnali che vanno esaminati, controllati e soprattutto verificati e gestiti al meglio. Per avere un animale, un cane in casa è necessario prendersene cura e soprattutto saper valutare se c'è la necessità di un aiuto oppure no. Insomma prestiamo attenzione a tanti fattori perché molto spesso così come con i figli si operano scelte sbagliate e si fanno crescere con tanti problemi, allo stesso modo questo avviene con gli animali. Insomma non vogliamo fare demagogia però cerchiamo di prestare maggiore attenzione per evitare che casi del genere si possano riverificare e soprattutto che gli animali vengano tacciati di essere in generale pericolosi. Ancora vediamo le altre notizie in primo piano. A Napoli l'appello del filosofo Aldo Masullo, salviamo Radio Radicale. L'avvocato scrive al sindaco De Magistris e al presidente De Luca, non è in balia dei partiti al potere come uno dei cittadini più vecchi, mi permetto di esurtare urgenti iniziative. Questo l'appello al sindaco e al presidente della regione non manca ormai che una mancata di giorni alla data in cui Radio Radicale sarà costretta a chiudere le sue trasmissioni. Non seguiremo più le mattutine rassegne stampa che ci davano il federe, il ragionato quadro delle notizie e dei commenti apparsi sui quotidiani del mattino nelle interviste in diretta ai personaggi politici d'ogni colore nella corrispondenza di prima mano sulla difficile vita della democrazia in ogni parte del mondo dai Balcani al Medio Oriente, dall'Asia Orientale all'America del Sud e neppure l'originale antologia settimanale della stampa vaticana. Insomma una pagina di storia che sta andando verso la chiusura per scelte probabilmente scellerate così è quello che viene definito da Aldo Masullo e la situazione si presenta sempre più irrimediabile. Ancora vediamo gli altri fatti in primo piano, questa volta andiamo a vedere che cosa racconta il mattino nella giornata di oggi, sempre nella versione online. Si parla di Noemi, la bimba ferita a Napoli, adesso sembra respirare meglio via i coaguli, potrebbe essere stubata entro 24 ore e infatti vediamo proprio il racconto che viene fatto da questa pagina c'è qualcosa di nuovo nella situazione clinica della piccola Noemi. La bambina è rimasta gravemente ferita venerdì scorso a Piazza Nazionale davanti a un bar durante un raid criminale trafitta ad entrambi i polmoni da un proiettile vagante. Ieri sono stati eliminati con una broncoscopia alcuni coaguli che ostruivano i bronchi che alimentano il polmone di sinistra il più danneggiato e dentro le prossime 12-24 ore si procederà a un tentativo di staccare la bambina dal respiratore artificiale e a quel punto si potrà determinare effettivamente le condizioni di questa bimba. Ancora vediamo una brutta notizia di cronaca, addio alla studentessa suicida, Eva sei il nostro angelo custode, la vediamo proprio ritratta in questa immagine, occhi rossi di pianto con gli sguardi rivolti alla bara bianca su cui troneggiamo una candida composizione di fiori insieme alla fotografia della bellissima Eva della calce. E ovviamente tanti accorsi proprio per questo funerale, almeno 15 sacerdoti sull'altare, diversi diaconi permanenti e di cappellani dell'ospedale Ruggi di Salerno che erano tre presenti a celebrare la cerimonia, donna Biagio Napoletano, delegato dell'amministratore apostolico Monsignor Luigi Moretti. Insomma ci ha offerto la tua bontà, la tua saggezza, la tua semplicità, dicono abbiamo beneficiato della tua presenza e dei tuoi gesti d'amore, abbiamo apprezzato le tue doti e le tue qualità e a questo punto la domanda nasce spontanea. Nessuno si è posto la domanda perché? E io su questo rimango ferma. Continuiamo a vedere le altre notizie in primo piano, ancora le notizie di cronaca. Ruggi dipendenti staccano visti soltanto 10 assenze all'anno. E infatti hanno sempre rispinto l'etichetta di Fanulloni e ora a rafforzare la loro tesi, giungono anche i dati della ragioneria dello Stato che indica il personale del Ruggi con 10 giorni di assenza annui per malattia insieme a quelli dell'Asl di Salerno, tra i più presenti al lavoro, tra tutte le aziende ospedaliere e sanitarie del bel paese. Insomma una medaglia al valore dovremmo raccontare, però sicuramente chi vuole fare il proprio lavoro esiste e soprattutto lo fa con dedizione e amore e questo ci fa piacere. Ancora vediamo le altre notizie in primo piano, si parla ancora una volta di Universia di De Luca nella nuova piscina a Scandone e dice è bellissima. E infatti fosse solo per questo e altri impianti messi a nuovo in tutta la campagna posso dire che ne è valsa la pena aver deciso di fare le Universia di Abraccetto con Manuela Di Centa e Presidente della Regione Vincenzo De Luca Gongola mentre ammira il restyling della piscina a Scandone con il vecchio impianto di fuori grotta rimesso a nuovo è la nuova piscina olimpionica per il riscaldamento degli atleti in corso di installazione alle spalle dell'impianto principale. Vedete facendo ai cronisti intorno indicando l'area dove hanno già montato i pannelli laterali della nuova piscina ed esponendo le foto prima dell'intervento e dice qui c'era una discarica. Insomma un luogo che è ovviamente il simbolo di una rinascita e soprattutto di un buon lavoro. Ancora vediamo gli altri fatti in primo piano, ci spostiamo nella terra casertana dove la cronaca ci racconta di atti intimidatori e minacce di morte nei confronti di un noto pizzaiolo proprio titolare della pizzeria Casa Vitiello a Caserta. Infatti sono apparse da qualche settimana due scritte sui muri prospicenti la nota pizzeria Casa Vitiello nella frazione di Tuoro che riportano la scritta Ciccio sei morto. Col chiaro riferimento al proprietario Francesco Vitiello da tutti soprannominato appunto Ciccio. Sono già note alle forze dell'ordine gli avventori del locale nei numerose risse avvenute nella nota pizzeria di Caserta che hanno visto coinvolto proprio il proprietario. Il diretto interessato che per tramite il suo avvocato Fabio Valenzano del foro di Santa Maria Capo Vetere ha fatto sapere è stata sporta denuncia contro i gnoti che sono fiduciosi affinché la magistratura faccia le opportune indagini e punisca gli autori di una così vile azione finalizzata probabilmente ad intimidire un onesto lavoratore che si è distinto per capacità professionali e fiore all'occhiello della nostra città. Ancora vediamo i fatti in primo piano che vengono raccontati proprio dai quotidiani online e ci spostiamo su Caserta Focus, pastorale della salute a Caserta. Monsignor Dalise, dalla terra dei fuochi la sfida per la tutela della salute e dell'ambiente. La conferenza stampa ieri a Caserta e vediamo infatti nell'immagine il vescovo della città. Si parla del ventunesimo convegno nazionale di pastorale della salute quest'anno che si svolgerà a Caserta e nella sede della curia vescovile casertana è stato presentato il programma dal vescovo di Caserta Monsignor Giovanni Dalise e da Monsignor Massimo Angiolelli venuto appositamente da Roma accompagnati dal moderatore Luigi Ferraiolo. E infatti il vescovo di Caserta ha avviato il discorso spiegando quali sono stati i motivi per cui si è scelta questa città e quali le finalità che si è proposto il progetto. Caserta è individuata come il centro della terra dei fuochi e tra le province più colpite a livello mediato per problemi di carattere ambientale e molti sono i casi conseguenti di malattie spesso terminali. Insomma tante le notizie anche questa mattina in primo piano da ogni parte sia d'Italia che soprattutto da Caserta e dalla regione Campania però anche per questa mattina la rassegna stampa termina qui. A voi tutti un grazie per essere stati con noi, grazie a Tecnocampus che come ogni giorno ci offre l'opportunità di stare insieme e a voi tutti l'appuntamento a domani. Buona giornata a tutti. Questo programma è stato offerto da Tecnocampus.